anticipiamo di un versetto giovanni 14 22 la pericope di questa domenica dice giuda non l'iscariota che era già uscito dalla relazione con gesù come abbiamo visto domenica scorsa gli fa una domanda signore come è possibile che devi manifestarsi a noi solo a noi e non al mondo intero era la domanda di chi coloro che aspettavano il messia messia sarebbe dovuto venire con gesti eclatanti stupefacenti lo stupore la sorpresa il sorprendente sarebbe dovuta essere la sua caratteristica fondamentale fai qualcosa giovanni e lo dice lo stesso nel vangelo manifestati fai qualcosa di bello fai dei miracoli fai delle cose bellissime perché il mondo creda che tu realmente sei il messia perché rimane tra noi e noi questa tua manifestazione facci capire fai qualcosa di grande e gesù risponde in maniera semplice non è nelle cose grandi che si manifesterà la sua gloria e la sua grandezza tanto che spesso si chiedono anche discepoli ma facci capire fai tanti miracoli non dire niente a nessuno ci dici queste cose adesso le potremmo capire no le capiremo un domani queste cose tenete che voi famoso silenzio messianico ma dille queste cose allora la risposta di gesù è questa se uno mi ama osserverà ascolterà la mia parola e io e il padre mio verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui se uno mi ama ascolta ci sono delle parole che noi ascoltiamo come sottofondo sentiamo nella nostra vita quotidiana ma è l'amore la capacità di raccogliere quelle parole e trasformarle in vita per noi se tu ascolti la parola una persona che ami quella parola ti fa produce qualcosa dentro di te se tu ascolti la parola di un papà di una mamma di una moglie di un figlio quella parola ti trasforma se invece senti parole di persone che magari dormi ti distrai allora è l'amore la capacità di inoltrare quella parola nella tua vita e dice il testo e io e il padre verremo e prenderemo dimora bello poieo monè cioè faremo una casa dentro di te sembra un gioco da bambini ma Gesù viene a fare una casetta a diventare casa dentro di te allora da quella dimensione estensiva che tutti i giudei richiedevano a Gesù si passa a una distensione intensiva non cose fatte per tutti non cose stupefacenti ma una casa una dimensione intima una dimora dentro di te questa è la dimensione dell'amore e della rivelazione allora facciamo attenzione a ogni qual volta noi vogliamo scoprire o vivere un messia che una personalità diciamo globale no la relazione con Gesù deve riproporsi a livello intimo facciamo attenzione quando pensiamo che la fede sia esclusivamente andare a messa fare cose comunitarie attenzione la parte intima della nostra fede è l'esperienza vissuta l'esperienza domestica di Cristo che fa casa con noi e dentro di noi e questa dimensione intima sarà rivalutata dalla presenza dal paracleto paracaleo no colui che viene quando tu lo chiami viene presso di te lo spirito agios lo spirito santo lo spirito del signore che il padre mio manderà e lui proprio lui dice che i nostri solo lui non altri vi faranno questi due doni due verbi due regali solo lo spirito non altre voci nel mondo non altre idee non altre confusioni solo lui lo spirito santo cosa farà vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto il primo verbo vi insegnerà il verbo didasco non è il verbo della lezione frontale dei professori nelle università o nelle scuole anche perché gesù ci ha già insegnato tutto è tutto contenuto nel suo evangelo allora didasco che cosa significa significa dove è la verità portami dove è la verità e lo spirito santo che cosa farà ci insegnerà giorno dopo giorno dove è la verità la strada di seguire anche se impervia anche se costa fatica anche se questa strada non è nelle nostre intenzioni razionali questo è il verbo dell'insegnamento che lo spirito santo ci farà ci darà ci riporterà sempre alla parola della verità e della verità nella nostra vita il secondo verbo è vi ricorderà tutto iupo mimnesco iupo significa sotto dovremmo tradurre ci ricorderà da sotto meglio tradurre ci ricorderà dal di dentro il ricordo la memoria è una memoria interiore non è una memoria che viene esterna oggi diremmo non è un hardware esterno che si collega alla nostra mente ci ricorda tutto quello che gesù ha fatto no lo spirito santo ci parlerà dal di dentro alla luce della risurrezione forse ricordate giovanni 2 quando quei giudei dicono tu che dici addirittura di poter ricostruire questo tempio in tre giorni mentre i nostri antenati ci hanno messo 46 anni ma sei folle continua dopo la risurrezione essi si ricordarono delle sue parole e credetero in lui il verbo è sempre mimnesco cioè ricordarono quella parola ma dopo allora questo ricordare che significa significa riportare alla memoria interiore allora è lo spirito che parla dentro di noi e ci fa capire che le parole di cristo sono nella nostra vita dal di dentro perché la nostra vita possa raggiungere dal di dentro la pienezza è il vangelo della vita domestica è il vangelo della vita interiore è la casa che cristo costruisce dentro di noi e lo spirito santo che noi chiamiamo paracleto che viene in questa casa la abita ci insegna dove sta la verità ci riporta al vangelo anche se costa dolore e fatica e ci ricorda dal di dentro la vita vera buona domenica a tutti grazie a tutti Grazie a tutti